Lo spacchettamento in tre del mercato orionale della strada parco a Pescara rivela già al suo esordio criticità che scontentano commercianti e cittadini. A dirlo è il presidente della Confederazione Nazionale dell'Artigianato di Pescara, Cristiano Doardi, secondo cui la scelta di dividere gli ambulanti assegnando loro spazi in via Diaz, nel parcheggio antistante la Sala Bingo in via Michelangelo e nel parcheggio tra via Spiga e via Raffaello si è rivelata sbagliata in generale. Non si capisce, scrive Odoardi in una nota, su quale base gli ambulanti siano stati destinati all'uno o all'altro spazio, trasformando un mercato di valore della città in uno che ha creato operatori di serie A, di serie B e di serie C. Inoltre, ha proseguito il presidente di CNA, andrebbero considerati anche i danni collaterali legati alla sottrazione degli spazi di sosta delle auto. L'amministrazione comunale deve prendere in considerazione una diversa collocazione, meglio se unica, rimettendo assieme in un solo spazio tutti gli ambulanti, o stabilire giorni diversi per i mercati se non si dovesse trovare un'area unica. In ogni caso, conclude Odoardi, siamo in grado di formulare proposte alternative per ridare valore a questo tipo di commercio, più vicino ai cittadini, che merita maggior attenzione e rappresenta una risorsa per la città. Grazie per la visione!